Alla luce del forte vento e delle mareggiate che si sono abbattute sulla costa Ligure nelle scorse ore, l'assessore regionale Aldemanio e all'urbanistica Marco Scaiola convocherà un incontro con le categorie dei balneari per fare il punto della situazione e valutare nuovi interventi. L'incontro servirà per esaminare nel dettaglio i disagi affrontati dai balneari. Come amministrazione siamo vicini alla categoria che rappresenta un settore strategico per l'economia della Liguria, ha detto l'assessore Scaiola. Nonostante i continui tagli del governo nazionale, nell'assestamento di bilancio passato in consiglio è stata approvata una mia proposta che vede raddoppiare per il 2016 i fondi a disposizione della categoria per il ripascimento delle spiagge, passati da 600 mila euro a un milione e duecentomila e nel corso dell'anno valuteremo come meglio utilizzare le risorse a garanzia delle nostre coste e per tutelare il lavoro dei tanti operatori turistici. La riunione sarà quindi a breve convocata e dall'incontro potranno uscire nuovi spunti.